Una giornata su due ruote nella zona di San Giovanni Lupatotto torna questa domenica pedala con noi l'evento di raccolta fondi per la realizzazione di progetti di vita dedicati a persone con sindrome di Down e disabilità intellettive, progetti portati avanti dalla fondazione più di un sogno Onlus. Ci sarà una cicloturistica dedicata agli amanti della bicicletta e alle società sportive, quindi tesserati a qualche società, organizzata dall'Albert Cyclic Team di Raldon e poi una pedalata invece ecologica, una biciclettata invece dedicata alle famiglie. Sono due percorsi anche diversi nel senso che la cicloturistica tocca i comuni di San Giovanni, Zevio, Palù e Buttapietra, un 27 chilometri poi si prosegue per farne 42, mentre la pedalata partirà da San Giovanni, prenderemo la pista ciclabile, passeremo la passerella, faremo tutto il lungo adige di San Martino fino al Ponte Perz per poi rientrare sempre in ciclabile. Il tutto ha una valenza sicuramente solidaristica, la raccolta di fondi e poi far conoscere questa realtà che opera da quanto? Allora la fondazione è nata nel 2007, mentre nel 2007 a Zevio come fondazione. A Zevio abbiamo gli ambulatori dove facciamo attività sanitaria con i più piccoli, mentre a San Giovanni nel 2010 nasce la cooperativa, che è la cooperativa Valunsogno, che si occupa di attività socioeducativa, quindi legata alle autonomie di vario tipo, che possono essere la formazione al lavoro, inserimento lavorativo nei casi in cui è possibile, vita indipendente, vita indipendente protetta e altri percorsi di educazione all'autonomia. Tante le realtà coinvolte nell'organizzazione di questa Domenica in Bicicletta, da non dimenticare la presenza dei volontari dell'ASFA, l'associazione donatori di San Francesco d'Assisi, partner del progetto. Noi da sempre coniughiamo la donazione del sangue al sostegno e al supporto alle associazioni di volontariato della nostra provincia. Come noi donatori di sangue opereremo all'interno di questo evento? Ci saranno dei punti informativi per la donazione di sangue, per diventare donatori con tutte le informazioni. Tra le altre cose siamo nel periodo estivo e quindi l'allarme è ancora più importante, è ancora più urgente e quindi è ancora più significativo fare ora questo tipo di sensibilizzazione. I donatori, tra le altre cose, forniranno anche il supporto e il servizio di assistenza e di accompagnamento nella biciclettata dei 20 km. Quindi accompagneranno le famiglie sui argini per tutto il percorso. Appuntamento dunque per queste due iniziative. Quando e dove? L'8 luglio, questa domenica, partiremo alle 9 con la cicloturistica, alle 9.30 invece per la pedalata ecologica e si partirà di fronte alla chiesa del Buon Pastore a San Giovanni.